amici di formula italian team benvenuti in questa nuova premiere premiere che ci serve per andare a fare i sorteggi che andranno a stabilire quali sono quali saranno le squadre che parteciperanno al nuovo campionato su project cars 2 a ruote coperte presentiamo prima il campionato il campionato sarà il porsche cup quindi useremo la porsche cayman gt4 club sport e il campionato sarà diviso in sette in sette appuntamenti il primo a partire dal 27 di ottobre sarà red bull ring seguito poi da dubai snetterton la costa azzurra con il ciclo ciclo giorno notte zolder caldwell e per finire gran finale a le man sul bagnato come avverranno le estrazioni abbiamo le due classiche urne urna race e urna sport andremo a sorteggiare un pilota di un urna da collegare con il pilota dell'altra dell'altra urna i piloti in urna race sono billy jo 97 g krik 73 kuntra mr krisit e jamax 74 verranno poi accoppiati a un pilota della urna sport e i piloti della urna sport saranno am 17 eddi motorino 46 crisotto shigasaki e ex dottor house 75 dire che possiamo partire abbiamo le due urne partiamo con la prima estrazione il primo a uscire dell'urna race e kri kri che verrà messo in squadra con i nostri bussolotti classici magici con ex dottor house 75 prima squadra sorteggiato andiamo avanti abbiamo il secondo pilota race che è jamax 74 che sarà in squadra con shigasaki terzo pilota terzo pilota abbiamo cric 73 sarà in squadra con eddy risotto rimangono tre piloti rimangono tre piloti mister krisit squadra con crisotto ultimi due abbiamo billy joe 97 in squadra con motorino 46 e e ora per far vedere che tutto è stato regolare abbiamo l'ultima l'ultimo bussolotto con il contra che che salutiamo salutiamo tutti ma e am 17 quindi le squadre sono fatte le ricapitoliamo un attimo abbiamo cric con ex dottor house 75 jamax con shigasaki cric 73 con eddy mr krisit con crisotto billy joe con motorino 46 e contra con am chiaramente se ci fosse qualcuno interessato abbiamo anche due wild card che parteciperanno a questo campionato sono sanna e martin prode 717 717 ma dicevo se c'è qualcuno interessato chiaramente basta iscriversi sul forum e si potrà partecipare a qualche garetta soprattutto prima è importante fare qualche allenamento insieme in pista allora non posso far altro che salutare tutti ci vediamo in pista e che venga il migliore